Cinque carri per la gioia dei bambini e la festa di tutto un paese. È iniziato ufficialmente il Carneval Marlia, storica manifestazione capannorese. Ad aprire il corso mascherato il carro Il Marillone, pagliaccio simbolo della manifestazione. Poi il carro del rione Ponticello Le Selvette, intitolato con il treno della fantasia I pensieri volan via. Quelli del rione La Fraga, buon appetito il carnevale servito, e del rione San Donnino, dal titolo Ragazzi si parte, andiamo su Marte, subito dopo. Il rione Santa Caterina ha partecipato invece con una mascherata di una cinquantina di figuranti. Tra i carri, anche quello più piccolo delle scuole Donaldo May della Piana di Lucca. Il Carneval Marlia, promosso dal comitato e dal comune di Capandoli in collaborazione con Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è a ingresso gratuito grazie al sostegno economico dei soggetti promotori. La manifestazione si svolgerà anche nelle domeniche 17 e 24 febbraio, 3 e 10 marzo.